Buonasera, un caro saluto a tutti voi e grazie per l'ospitalità. Grazie a te. Senti, questa campagna elettorale secondo me è la più schifosa di sempre. Se c'era della gente stomacata che aveva deciso di non andare a votare, adesso quel numero di persone disilluse, schifate è aumentato. Che dici? Ma io penso che tu abbia ragione, dopo questa campagna elettorale noiosa, ripetitiva, priva di contenuti che possano eccitare, è chiaro che molta gente che non aveva votato negli ultimi tornati elettorali confermerà il proprio desiderio di non votare proprio per disgusto. E quindi speriamo che finisca presto questa tirototela, che si arrivi in fretta al 4 marzo e dopo di che ricominceremo con la solita solfa, che governo avremo, chi partecipa, i ministri, non i ministri. La mia impressione è che da queste urne non uscirà una maggioranza netta, ma ho anche la certezza che nessuno di coloro che è stato eletto nel nuovo Parlamento abbia voglia di tornarsene a casa, per cui troveranno il modo per fare una legislatura magari litigiosa, di breve durata, ma comunque nessuno vorrà dimettersi e riproporsi ad altre elezioni. Quindi non si facciano illusioni gli italiani, noi avremo un governo con i 5 stelle, con il Partito Democratico e magari anche con quei signori liberi o uguali, non si sa uguali a chi, ma che messi insieme arrivano al 60% dei voti e quindi avranno la possibilità di creare una maggioranza con tutte, con la titolarità per andare avanti. Sono mesi che tu vai dicendo quello che i sondaggi confermano anche gli ultimi di questi giorni, che viene fuori un pasticcio e un paese ingovernabile. Come se ne esce, con i pasticci ancora, come se ne esce da sta situazione? Chi deve arrivare, chi deve morire, chi deve venire? No, guarda che nessuno morirà perché il centro-destra si accomoderà all'opposizione, mentre i 5 stelle, il Partito Democratico e quelli di Grasso, cioè i liberi o uguali, riusciranno a formare una maggioranza che esprimerà un governo che non piacerà a nessuno, che sarà molto simile a quello di Gentiloni e andremo avanti non so per quanto tempo con questi signori che continuano ad aumentare le tasse, continuano a spendere molti soldi che non hanno, pertanto aumenterà il debito pubblico. Insomma, ci troveremo nella solita situazione, niente di nuovo, è la solita crisi italiana che in confronto ad altri paesi europei ci mette in ginocchio. Insomma, è inutile farsi delle illusioni. Chi pensa, andando a votare, di cambiare le cose, si metta pure da parte questo desiderio perché non sarà esaudito. Va bene, anzi va male. Maledetta Sinistra, titoli, un titolo dei tuoi freschi, Maledetta Sinistra con il piano di Prodi per fregare il centro-destra. Qual è questo piano di Prodi? È quello che raccontavi prima? Prodi, sì, più o meno è quello. Prodi avrà tanti difetti ma è un abile manovratore. Intanto ricordiamo che per ben due volte ha fregato il Cavaliere alle elezioni, mi riferisco al 1996 e al 2006, quando Prodi riuscì a vincere le elezioni. Poi durò poco, durò poco perché la sua maggioranza era debole, fragile, costituita da gente troppo diversa per andare d'accordo, però in ogni caso non si può disconoscere l'abilità di Prodi nel fare certi giochi che comunque sono democratici. Questa volta ha in animo, questo lo so per certo, di mettere d'accordo il Movimento 5 Stelle che ha un desiderio spasmodico di governare con quel ragazzino esperto in congiuntivi che si chiama Di Maio, con il Partito Democratico che essendo condotto da Renzi, il quale comunque non ha nessuna voglia di andarsene a casa e troverà il modo di trovare un accordo, un piano comune per governare. A questi due partiti si aggiungeranno quelli che sono iscritti a liberi e uguali e quindi la somma dei consensi dei tre partiti arriverà al 60%. E' chiaro che col 60% governi tranquillamente, mentre il centro-vestra che pure potrà arrivare anche sul 40%, però non potrà governare perché Mattarella non può dare l'incarico di formare il nuovo governo al capo di una coalizione, ma al capo di un partito. Non so se mi spiego, perché poi le questioni sembrano complicate più a dirle che a farle. Siccome il primo partito sarà il 5 Stelle, è chiaro che l'incarico di formare il nuovo governo andrà a Di Maio. Mettiamocelo in testa, anche se non ci piace, le cose stanno così. Ecco, Di Maio che ha avuto una sfortuna terribile per quanto riguarda la scelta dei candidati, massoni, gente che ha cacciato per la storia dei rimborsi, alla fine si trova con molti deputati in meno, ma sicuramente sarà il primo partito, ma uno che non è in grado di scegliersi i candidati, perché questa volta non è che te li trovi dentro come altre volte del resto, ma te li nomini, li ficchi lì nelle posizioni belle e ti accorgi il giorno dopo che c'hanno tutti dei problemi o quasi, è capace di governare l'Italia uno così, secondo te? No. Adesso, intanto dobbiamo sottolineare un aspetto, che di tutti questi particolari, di questi dettagli, alla gente non importa nulla, non ha neanche capito che cosa siano i rimborsi, che cosa siano le scuarettezze commesse nella preparazione delle liste elettorali, sono questioni tecniche che sfuggono alla comprensione della stragrande maggioranza del popolo, il quale se ne frega vuota in base a un istinto che noi conosciamo bene, è la simpatia, l'antipatia, il disgusto che determinano le scelte elettorali, e quindi tutti questi discorsi che facciamo noi, secondo me, non hanno molto senso. Certo, se io devo dare un giudizio su Di Maio come prossimo Presidente del Consiglio, mi viene quasi da ridere, perché a parte che il poveraccio non ha mai lavorato in vita sua, è uno che ha 32 anni, privo di qualsiasi esperienza, insomma non mi sembra un tipo affidabile, lo dico non con compiacimento, ma anche con dispiacere, quindi il nostro prossimo governo sarà una cosa da ridere, questo ce lo dobbiamo confessare, però non si sa mai perché la regia di Prodi garantisce, diciamo così, anche il successo elettorale, questo secondo me è quasi assodato, però quello che succederà dopo lo vedremo, adesso dobbiamo attenderci un risultato sconvolgente dalle urne, ma che non è neanche tanto imprevedibile, perché il discorso che ho fatto io non è il discorso di un tifoso di un partito o dell'altro, è il discorso di un osservatore che guarda la realtà e poi ne trae delle conclusioni, quindi vinceranno, il partito primo sarà 5 Stelle, poi avremo il secondo partito, il partito democratico, quello di Renzi e infine avremo come ruota di scorta il partito di Grasso che è il Presidente del Senato, questi tre associati arrivano al 60% dei consensi, quindi è chiaro che governeranno loro, chi si illude che possa governare il centro-destra secondo me sbaglia, certo è un desiderio e qualcuno può anche esprimerelo e fa bene a farlo, però i numeri sono numeri e la politica senza l'aritmetica non si capisce e non si può fare. A proposito di aritmetica, pare facessero i conti per quanto guadagnare, insomma un'inchiesta di fanpage, fanpage, non so neanche come si pronuncia, un sito internet che in sostanza infiltrando un ex camorrista avrebbe scoperto questo giro di mazzette legate ad alcuni politici e allo smaltimento dei rifiuti in Campania. che succede? Ci va di mezzo anche il figlio del governatore della Campania, De Luca, Roberto, che è assessore nel comune del padre a Salerno. Che idea ti sei fatto di questa vicenda in cui i giornalisti fanno i tranelli politici usando i camorristi o ex camorristi, video? Ti è piaciuta questa storia? Che hai capito? No, non mi è piaciuta, ma in Campania sappiamo che può succedere di tutto, non è una novità, anche in passato ne abbiamo viste di tutti i colori. Io non credo che questa storia sia così decisiva, non mi pare che De Luca sia una persona disonesta, non conosco il figlio, però credo che ci sia molta panna montata in questa vicenda, non riesco a prenderla troppo sul serio. Certo è un disturbo per anche il clima elettorale che stiamo vivendo, che non è già allegro, ma credo che queste storie possano essere decisive ai fini del risultato elettorale. Io lascerei perdere e poi devo anche confessare che non ho capito niente, non ho capito cosa è successo, chi ha rubato, chi è stato derubato e poi mi annoiano queste cose, non le sopporto più perché ce n'è una al giorno, non le leggi sui giornali e non capisci niente, le vedi in tv e continui a non capire niente. Poi ne discutiamo tra noi pur non avendo capito niente, quindi non mi sembra che questo discorso possa arrivare ad una conclusione seria. No, ecco, però è un bel modo di ragionare questo tuo, perché diranno guarda Feltri che non sta a guardare la virgola, non approfondisce, in realtà Feltri, come dovrebbe fare qualsiasi giornalista, interpreta quello che è il pensiero e il sentire comune della gente, la gente non parla certo di questa inchiesta quando si ritrova al bar o quando conversa per strada o a cena con le gambe sotto al tavolo, ma parla di un paese che non ha prospettive, o no? Ma il punto è questo, io credo che il problema degli italiani sia il solito, ci sono delle tasse spaventose per cui anche gli operai italiani, per esempio, sono tra quelli che incassano meno alla fine del mese, ma i loro datori di lavoro sono quelli che sborsano di più, perché devono pagare tasse, devono pagare contributi e quindi queste sono le questioni che stanno a guardare gli elettori. Quando poi si parla di posti di lavoro, noi continuiamo a pensare che sia il governo a poterli creare, il governo deve solo creare le condizioni per le imprese, condizioni tali per cui ci possa progredire economicamente, se invece i governi continuano a tassare, continuano a mortificare l'iniziativa privata, è chiaro che i posti di lavoro non si creano, allora come faremo noi a progredire senza lavorare? Io ho l'impressione che continuiamo a intorcinarci in discorsi che non portano a niente, il governo non deve creare posti di lavoro perché non è in grado di farlo, deve però creare le condizioni affinché gli imprenditori siano abilitati, siano favoriti nel fare business e di conseguenza di assumere gente e di incrementare la ricchezza nazionale, altrimenti saremo sempre l'ultimo paese d'Europa a crescere, infatti non cresciamo se non meno degli altri e quindi siamo sempre qui alla canna del gas. Torniamo direttore, subito dopo un attimo di pausa, un attimo di pazienza. E dicevi bene prima Vittorio quando spiegavi che un governo deve creare le condizioni perché si possano realizzare i posti di lavoro, è il caso della multinazionale Embraco, l'ex Whirlpool se non sbaglio, che se ne va dall'Italia, licenzia 500 persone, più l'indotto sono migliaia, e il ministro Calenda va lì e scopre che il re è nudo, scopre di essere impotente, scopre che queste multinazionali possono fare il cavolo che vogliono, in barba a tutto, in barba a tutti, non se ne esce se non ci proteggiamo in qualche modo, no? Certo, perché il problema è che noi consentiamo a società straniere di venire nel nostro paese per condurre delle aziende, per acquistarle, ma non poniamo alcuna condizione, cioè non diamo delle direttive precise da rispettarsi sempre, per cui a un certo punto un'impresa, che so io, americana, compra un'azienda in Italia, poi scopre che purtroppo il sistema fiscale è eccessivo, ci sono tanti obblighi sindacali e quindi fa due conti, vede che non ha più interesse a lavorare in Italia perché non ci sono dei profitti adeguati, chiude la fabbrica e va altrove, come succede nella vicenda di cui stiamo parlando. Ce ne vanno, adesso poi anche molte altre aziende italiane se ne stanno andando in Albania, perché l'Albania impone un fisco che non supera il 15%, i salari degli albanesi non superano 300 Euro, quindi è ovvio che un'azienda che voglia prosperare preferisce recarsi all'estero piuttosto che rimanere qui a farsi sgozzare da un sistema fiscale che è francamente imbarazzante. Ma allora non ce la dobbiamo prendere con le aziende, ma ce la dobbiamo prendere con uno Stato che vuole succhiare il sangue alle aziende e ai lavoratori e dopodiché è chiaro che prima o poi chiude e si trasferisce altrove dove trova condizioni migliori di lavoro. Ma non ci vuole tanto a capire questa cosa, invece noi pensiamo che il sistema italiano sia blindato, non c'è più niente di blindato, ormai con la globalizzazione tu vai di qua e di là, vai dove conviene, i soldi vanno dove conviene, non stanno in un paese come questo dove se tu hai due lire in tasca c'è il fisco che da lì rabbina. Come si faccia a non capire questa cosa? Io francamente non riesco a capacitarmi. Senti, l'Inps, questo è un altro tuo titolo, l'Inps stipendi a 9 mila fannulloni, poi non hai soldi per i pensionati, la piaga dei lavoratori socialmente inutili, l'ente di previdenza dà un sussidio di 700 euro o anche gli ex detenuti in Sicilia. Insomma, continua questa piaga, se ne continua a parlare, non è in apertura dei grandi quotidiani, quelli che aprono con queste notizie, di cui non si capisce niente, questa è chiarissima, qualcuno ponga rimedio, no Vittorio? Sì, lo so, però il sistema è questo, è di tipo assistenzialistico e va sempre a tappare dei buchi laddove se ne aprono, ma non si risolvono mai le questioni fino in fondo. Prima parlavamo di quell'azienda che ha chiuso e ha mandato a casa 500 operai, naturalmente la cosa non fa piacere, non è che nessuno di noi giovisce, però bisogna tenere conto che l'alternativa era la cassa integrazione, cioè mandare in cassa integrazione 500 operai, ma chi li paga questi 500 operai? La cassa integrazione è finanziata dall'Inps, ma l'Inps è un ente dei pensionati che utilizza i soldi dei lavoratori, che li versano attraverso i contributi mensili, prelevati direttamente dalla busta paga. Per quale motivo? I lavoratori italiani e anche gli imprenditori italiani debbano pagare la cassa integrazione, non riusciamo a capirlo, i soldi dei lavoratori servono per pagare le pensioni, i soldi per pagare le pensioni non ci sono, perché li diamo alla cassa integrazione, li diamo ai lavoratori cosiddetti socialmente utili, e invece sono socialmente totalmente inutili. Quindi è chiaro che noi ci sveniamo, ci impoveriamo, non abbiamo più neanche i soldi per le pensioni, perché quei soldi che dovrebbero servire per i pensionati li buttiamo in mille altre attività che non competono ai lavoratori. Non so se mi sono spiegato. No, no, è chiaro, è un tuo cavallo di battaglia. Il problema è che non è il cavallo di battaglia di nessuno di queste facce che si presentano in televisione e ci chiedono il voto, perché nessuno parla di questo, perché è scomodo, no? Non solo è scomodo, ma c'è anche un'ignoranza molto diffusa, cioè molti parlamentari non sanno che l'Inps è finanziata dai lavoratori e dai datori di lavoro, che sono tutti i quattrini destinati poi a pagare le pensioni di anzianità o di vecchiaia, non lo sanno. Quindi pensano che sia giusto pagare i lavoratori socialmente utili con i soldi della Previdenza, pensano che sia giusto pagare la Cassa Integrazione con i soldi della Previdenza e sono ignoranti e amministrano da ignoranti, tant'è vero che siamo in una situazione di difficoltà. E' questo che dovrebbe svegliare qualche cervello, ma siccome di cervelli in giro ne vedono pochi, è anche difficile che un cervello che non c'è possa svegliarsi. Un'altra bella storia raccontata solo da te su Libero, il boom degli ospizi abusivi, sostanzialmente fatta breve, finire in casa di riposo per chi non ha la possibilità di stare in famiglia o ha bisogno di essere aiutato, costa fino a 3.000 euro al mese. Ecco che allora c'è chi si organizza e fornisce a prezzi più contenuti rispetto ai 3.000 euro che costa tenere un anziano in un istituto e trovare posto poi, si organizza a casa. Però sta roba non va bene, questa non è civiltà, no? Sì, ma quello che hai detto tu è assolutamente esatto. Succede questo, che gli ospizi pubblici hanno dei costi pazzeschi, bisogna arrivare a 3.000 euro, ma qual è quel pensionato che dispone di un assegno mensile di 3.000 euro? Insomma ce ne sono pochi e chi ha meno soldi cerca delle soluzioni meno onerose, quindi va a cercare questi ospizi abusivi dove magari con 1.500, 1.600 euro riesce a pagarsi le rette, però poi il trattamento che riservano agli ospiti gli ospizi abusivi è un trattamento da terzo mondo, un trattamento umiliante per gli ospiti, quindi noi che continuiamo a parlare di femminicidi, della disoccupazione dei giovani, eccetera, e poi ce ne fottiamo totalmente delle persone anziane che hanno lavorato tutta una vita, hanno dato tutta la loro fatica, hanno dato veramente l'anima e il cuore al paese e quando arriva il momento di godersi un po' la pensione e di riposare, noi li ripaghiamo sbattendoli in questi luoghi che sono veramente schifosi, dove questi poveri vecchi vengano trattati a pedate in bocca, questa è una cosa deludente, è una cosa che mette preoccupazione, ma nessuno se ne occupa, perché noi ci occupiamo dei giovani, ci occupiamo delle donne e dei vecchi ce ne sbattiamo i coglioni, questo è orrendo, mancanza di gratitudine. Eh sì, a consentirci di vivere come abbiamo vissuto, come stiamo vivendo, sono stati proprio i nostri vecchi, come dicevi tu, con i loro sacrifici, e noi li ripaghiamo a pedate nel culo, quando va bene, perché altrimenti li sotterriamo direttamente, però per altri versi viene fuori che siamo un paese estremamente democratico, leggevo sempre sul tuo libro Sanità del Menga, che dice tutto, vuoi cambiare sesso? Vai negli Stati Uniti, tanto paghiamo noi qui in Italia, un uomo vola in California per l'intervento, quindi per diventare donna immagino, è partito uomo e è tornato donna, poi chiede il rimborso alla regione, comprensivo di biglietto suo e per l'accompagnatore, un giudice di Treviso gli dà ragione, quindi uno può andare, partire uomo con un accompagnatore e tornare donna, davvero questa roba qua è consentita? Sì, è paradossale ma è quello che è successo, cioè uno vuole cambiare sesso, lo faccia, a me non me ne frega niente, ma a me non paghi l'intervento, no, non solo questo signore non vuole pagarsi l'intervento, ma vuole farlo negli Stati Uniti, perché è più sicuro, non so per qualsiasi motivo, perché io non mi intendo di cambiamento di sessi, però va negli Stati Uniti, lo sottopongono a intervento chirurgico, lo fanno diventare uomo o donna, non ricordo bene il sesso scelto dal nostro paziente, il quale poi torna in Italia, ma la fattura dell'operazione non viene pagata da lui che ha scelto di farla, ma viene pagata dalla regione, perché questa sarebbe la legge, a me sembra una legge veramente del menga, anche se il termine non è elegante, però insomma che noi si debba pagare anche il cambiamento di sesso, che avviene non nel nostro paese con i nostri chirurghi, ma che avviene invece negli Stati Uniti, dove forse ci sono più, come si chiama quelli lì, transgender, non so neanche, non neanche il linguaggio per parlare di studiatori. Forse, scusa, forse negli Stati Uniti ci sono dei pezzi di ricambio migliori. Può darsi, sì, ma tu probabilmente hai anche ragione, io non so perché uno se vuole tagliarsi il pistolino debba andare fino in America, ma venga qua, va in una macelleria e troverà qualcuno disposto a tagliarglielo, ma con una spesa nettamente minore, poi siamo pieni di bravi medici, di bravi chirurghi, l'Italia è uno dei paesi in cui ci sono i medici più ravi del mondo, tant'è che vengono a prenderci e ce li portano via e noi le stiamo senza, perché di questo si tratta. Quindi insomma a me queste cose fanno un po' girare le scatole, ma credo che anche al pubblico non vadano a genio, anche il pubblico non le digerisce, insomma fate quello che volete col vostro senso, noi non ci importa niente, non abbiamo pregiudizi, però che vi si debba pagare anche le amputazioni mi sembra francamente eccessivo. Sì, però se parli così dopo ti dicono che sei retrogrado, che non guardi al futuro, però ricordo l'ho unita... Sì, ma io sono retrogrado. L'ho unita a quella dei vecchi, perché per far diventare le donne uomini abbiamo i soldi, per far morire in pace chi ha fatto grande il paese non ce li abbiamo, cioè sono due notizie che si possono collegare perfettamente. Sì, sì, ma bravi, sì sì, c'è quasi una logica che lega questi episodi, che è una logica folle che non dovrebbe appartenere a un paese civile, invece noi qualsiasi stravaganza la cavalchiamo, la finanziamo, la paghiamo e dopodiché naturalmente le nostre tasse non possono diminuire, perché è inutile continuare a dire che dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello. Se non abbiamo i soldi non possiamo fare niente. Il nostro debito pubblico aumenta di 100 milioni al giorno, perché la gente che ci governa non è in grado di risparmiare. In qualsiasi famiglia, se c'è un introito mensile di metti 3 mila Euro, in qualsiasi famiglia non si possono spendere 3 mila e 200 Euro, ne devi spendere 2 mila e 9, così ti avanzi anche 100 Euro che dopo un anno diventano 1 mila e 2 e magari hai una piccola scorta. No, i nostri governanti spendono anche i soldi che non hanno e poi li mettono a carico nostro perché il debito pubblico non è a carico di quegli idioti che ci governano, ma è a carico dei cittadini. Lo sappiano, questi soldi dovremmo sborsarli noi, attraverso patrimoniali, attraverso altri sistemi trufaldini che sono in uso in tutti i governi, non solo nel nostro, e questo però dovrebbe anche aprirci un po' gli occhi. Invece noi non apriamo gli occhi, li chiudiamo, pensiamo che andiamo avanti così per l'eternità, ma non è possibile perché a forza di accumulare debiti si scoppia. Scoppiano le famiglie, scoppiano le aziende, scoppiano gli stati. Grazie al direttore Vittorio Feltri, come sempre lucido nel analizzare questo paese che se ne è andato in vacca ormai da tempo. Grazie e buonanotte direttore. Grazie a tutti voi, buonanotte.